Un'anteprima mondiale importante per la Lamborghini, dopo 11 anni di Gagliardo arriva la Huracan, una svolta importante per Lamborghini, in quale direzione? Ma un po' in tutti i sensi perché la Gagliardo è stata la più venduta nella storia della Lamborghini, con quasi la metà di tutte le Lamborghini mai prodotte nel primo mezzo secolo. E poi perché è piena di innovazione tecnologica, non ha solo un design completamente nuovo, ha uno chassis che è un ammisso tra carbonio e alluminio, un motore nuovo, per la prima volta un cambio ad oprafizione, per cui è veramente una macchina completamente nuova. Fedele però al motore aspirato, non ci dobbiamo attendere nulla di nuovo da questo fronte? Beh, diciamo che il motore aspirato è parte del DNA della Lamborghini, per cui noi puntiamo molto sull'innovazione tecnologica, però dobbiamo anche tener conto del fatto che questi motori hanno ancora molto potenziale e noi crediamo fortemente che nei prossimi anni ancora possono far vedere tanto.